Con il Catanzaro inizia un ciclo di partite ravvicinate che potrebbe restituire un valore ancora più definito dell'attuale Teramo. Perché in Calabria qualche mese fa al primo turno si fermò l'avventura playoff del Diavolo ed è al Ceravolo che dopo la domenica di pausa i biancorossi ripartono con negli occhi ancora la zampata vincente di Ilaria Pagani. Senza Bombaggi, Viero, Lasic e Gerbi, Paci dovrebbe confermare per molti versi l'undici che è sceso in campo al Torre. Tornerà, e non è un ritorno da poco, Pedro Miguel Costa Ferreira che di conseguenza dovrebbe essere schierato dal primo minuto. Così come torna anche Santoro, abile e arruolabile per il Ceravolo e che giocherà nella ormai classica linea 2 con Arrigoni nella zona nevragica del terreno di gioco. Dietro con l'Asic fuori causa di Achite andrà sull'out destro, Jotti si sistemerà al centro della difesa con Piacentini mentre Mungo dovrebbe essere spostato nuovamente a ridosso della punta. Arriveremo sul campo di battaglia, lì dovremo sapere adattarci al tipo di partita perché potremmo aver preparato la partita migliore al mondo ma poi quello che conta è sapersi adattare all'avversario, sapersi adattare al tipo di partita e comunque rimanere in fiducia ed equilibrati all'interno delle difficoltà che si potranno creare. Io credo che loro ci attaccheranno, ci presseranno alti, penso perché giocheranno in casa e vogliono sin da subito far capire che tipo di partita ci aspetta. Noi dal canto nostro risponderemo con le nostre armi, cercando di essere intensi, aggressivi e cercare di lavorare sui nostri punti di forza, conoscendo bene l'avversario. Calabresi reduci invece dalla vittoria rigenerante di Avellino per 3-1 che ha salvato la panchina di Calabro a rischio qualora fosse arrivato un altro risultato negativo. Per il Teramo invece quella di domani è la prima di quattro partite da qui fino alla fine del mese di novembre. Perché domenica alle 14 si torna al Bonois contro il Catania prima del recupero del 18 sempre in casa contro il Foggia. Domenica 22 la sfida complicatissima, liberati contro il rullo compressore Ternana. Si torna poi alla settimana tipo per preparare la seconda trasferta consecutiva in Puglia contro la Virtus Francavilla. Novembre mese cruciale dunque per non avere le vertigine e confermarsi come una big del Girone C. Se non avessero giocato queste tre partite la metterei al pari con Bari. Perché forse a livello di qualità hanno qualcosina in meno ma hanno tanta qualità, hanno tanta intensità. Quindi è una partita che la paragonerei a Bari. Loro hanno giocato tre partite e questo spero che sia un vantaggio per noi. Perché con l'andare della partita dovremmo essere bravi a sfruttare questo tipo di vantaggio. E quindi non posso dire che sarà la stessa partita di Bari. Però la difficoltà è quella. La trasferta è lunga, sono otto ore di Pullman. La squadra avversaria è una squadra che in questo momento vuole vincere in casa. Perché ultimamente ha fatto male. È una squadra di assoluto valore. Quindi la paragonerei a Bari. Con l'unica differenza che fisicamente non credo che saranno al meglio delle loro condizioni. Anche se poi rimarrà una partita molto complicata. Ma è una partita e siamo felici di andarla a giocare. Perché per noi è una grande opportunità.